C'è un salto di qualità che avevo chiesto ai ragazzi a inizio stagione? Ad agosto quando abbiamo cominciato era quello mentale, fisicamente eravamo preparati, ci mancava quel qualcosa per fare il salto di qualità. Abbiamo giocato un'ottima partita, dobbiamo avere più continuità, più maturi sicuramente, però la mole di gioco che riusciamo a creare è il doppio di quello che si riesce a tenere. I complimenti hanno fatto un'ottima partita. Ci sono stati dei minuti dove la Florentia ha recuperato, sono forse queste le situazioni dove bisogna lavorare un pochettino di più con i ragazzi, non rilassarsi forse? I cali di concentrazione purtroppo sono difficili da eliminare. Ci stiamo lavorando, stiamo crescendo. Anche a Roma abbiamo recuperato una partita che era praticamente persa a un minuto dalla fine. Dobbiamo continuare su questa strada, su questa intensità, su questo approccio alle partite che mi sta piacendo molto. Cominciamo le partite sempre con un buon ritmo, una buona qualità. Siamo sulla strada buona, dobbiamo insistere e limare queste cali di concentrazione che fanno rientrare le squadre quando noi diventiamo spreconi e arraffoni.